E' vero a tutti follower, bentornati sul mio canale, sono Tifossero Senaro che vi parla e bentornati qui in un nuovo video In questo video parleremo del calcio mercato del Palermo, altre importantissime novità Partendo da Pigliacelli che non è ancora una nuova difficilità ma è tutto in effetti un gioco del Palermo L'uiei di venerdì ha giocato l'ultima partita con la mani dell'università di Craiova Ha inserito intervistato da Benetto Giardino e ha detto che appena ho scelto di parlare di Palermo non ci ho visto più Quindi arriverà a Palermo e probabilmente inizia la prossima settimana, intorno a lunedì Poi partendo per la difesa, il nome nuovo è quello di Yonut, Nedel Ceauro, difensore ex crotone Cioè il proprietario del crotone rumeno ma che probabilmente al 90% non rimarrà a crotone Poi bisogna vedere se arriverà a Palermo ma comunque non rimarrà in Lega Pro con la maglia dei Pitagorici Sulle fasce non abbiamo novità, rimane ancora in piedi l'idea stramaccione di vento centrale Andiamo in entrare dalla Juventus ma non ci sono notizie recenti Stessa cosa per Tascone, non si capisce, c'è sotto una fumata nera con il Padova per l'acquisto del centrocampista Ancora il Palermo, c'è la Reggina anche su Tascone, anche se il Palermo in questo momento sembra in pole Ma non si sa, magari prossima ora Tascone va alla Reggina o al Tascone di Serie B, non lo sappiamo Per quanto riguarda sulla tre quarti, scusate, abbiamo Van de Put Ma anche qua non si capisce perché il Catanzaro vuole 500.000 euro Ha rifiutato l'offerta, la prima offerta che ha presentato il Catanzaro, il Vicenzo ovviamente Poi Cortinovis è cercato dal Palermo ma probabilmente andrà in presito all'Ellas Verona Mentre molto vicino al Palermo è Elia, Salvatore Elia, ex Benevento di proprietà dell'Atalanta Si tratta diciamo di un inpresito con detto di riscatto in favore del Palermo E contro il riscatto in favore dei Bergamaschi dell'Atalanta È un ottimo giotone, un ottimo esterno che all'occasione può fare anche il terzino Quindi giotare comunque è da tutta, tutta, tutta fascia E poi soprattutto è ritorno di Bomber Matto Brunori intorno alle cifre 2.500.000, 2.000.000 di bonus circa Insomma su quelle cifre Ancora l'ufficione non è arrivata perché ci sono delle questioni burocratiche Ma tranquilli perché l'ufficione arriverà breve Queste questioni burocratiche non riguardano la Veramente in sé proprio l'operazione Potrebbe saltare assolutamente no Anzi tutt'altro ben definita Soltanto che stevano questi documenti e sono obbligatori Ma tranquilli, Matto Brunori tornerà a Palermo E arriverà a titolo definitivo dalla vecchia signora Domani ci sarà la partita contro il Marino alle 18.30 Ci sarà la diretta sui canoni social del Palermo Quindi YouTube e Facebook E poi quindi il calcio mercato si sta fermentando Si porta in entrata, in uscita qualcosa scarseggia Perché per esempio Somma doveva andare al Foggia ma non c'è nulla Questa cosa dall'Oio De Rose probabilmente non andrà a Cesena Perché Baldini lo vuole che rimanga Insomma non ci sono più troppe novità E niente ragazzi Spero che questo vi sia piaciuto Se vi è piaciuto un commento Un mi piace Iscrivetevi al canale Come sempre attivate la campanella Che è molto importante Molto molto importante Per non perdervi ultra novità E niente che dire Non ci vediamo al prossimo video Bella follower Ciao